DHL Express Italia, Bologna, Martavano... Inaugurato oggi il nuovo Gateway DHL Express Italy all'aeroporto di Bologna. Una collaborazione importante, quella tra il Marconi e DHL, iniziata nel 2008, che oggi si consolida con il taglio del nastro di una nuova struttura sulla cui realizzazione l'aeroporto di Bologna ha investito 10 milioni di euro per il building, mentre altri 33 milioni di euro sono stati investiti da DHL in tecnologie, impianti, macchinari e mezzi a basso impatto ambientale. È importante presidiare un territorio come quello di Bologna, dell'Emilia Romagna e di una catchment area che va anche oltre i confini regionali, per quello che il territorio genera in termini di domanda di un servizio come il nostro. Spedizioni veloci in un tempo definito, per cui tante aziende del territorio, siano esse grandi piuttosto che piccole, hanno bisogno di noi per tutto quello che è il mondo della ricambistica, dei campioni, di soddisfare degli ordini. Quindi non abbiamo avuto dubbi nel decidere un investimento qui, un investimento che ci ha visto insieme all'aeroporto di Bologna portare avanti tutto quello che avevamo progettato, indipendentemente dalle difficoltà della pandemia, e un investimento che vede oggi il completamento del building, l'entrata in funzione del building e del sistema di smistamento, ma ci auguriamo possa avere, anzi siamo sicuri, avrà una durata lunga nel tempo, almeno ventennale, se non oltre, quindi un investimento sicuramente di lungo periodo. Un progetto che si basa appunto sulla sostenibilità, produzione energetica con fonti rinnovabili, abbiamo utilizzato anche un materiale come il policarbonato, materiale leggero, riciclabile al 100% che permette alla luce di entrare, quindi anche di diminuire i consumi energetici per l'illuminazione naturale. Questa è un'infrastruttura molto importante per l'aeroporto, per DHL ovviamente per il territorio, sottolineo il fatto che è stata completata in un periodo difficile evidentemente per tutti, crediamo molto nelle potenzialità dell'infrastruttura che ha servizio di un'economia territoriale che non si è mai fermata, e come l'aeroporto non si è mai fermato, anche l'economia penso che potrà riprendere anche grazie a infrastrutture come queste. Il primo semestre 2021 siamo il terzo aeroporto italiano per cargo, e questo ha accompagnato e a sua volta è stato influenzato dalla ripresa dell'export che c'è stata in regione. Il progetto arriva a compimento in un momento straordinario perché si ricomincia in qualche modo e soprattutto la vocazione terziaria di Bologna e del suo aeroporto viene fuori in tutta la sua potenza perché è evidente che investimenti di questo tipo da parte di multinazionali rafforzano il valore di Bologna e la sua posizione straordinaria. Grazie per la visione!